Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio, in A1 Nevischio tra Pian del Voglio e Aglio, in A11 in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e code a tratti tra Prato Ovest e Il Bivio per la 1. Un raccordo sia in Firenze scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale Trebis Tiberina, a seguito del sequestro preventivo del viadotto Puleto, chiuso in entrambe le direzioni il tratto tra Canili e Balsavignone. A Firenze in Piazza delle Cure per lavori, fino a fine febbraio restringimento di carreggiata tra Viale Volta e Viale dei Mille. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!